Potrebbe essere che il mio messaggio di pace, di cui adesso mi piace molto bisogno direi, potrebbe essere ascoltato in quanto comunque fa la differenza una canzoni che si esegue le sue cose, anche se in modo molto libero, come è stato detto da una signora carina nella commissione. All'autrice ho consegnato il mio disco, con tre canzoni, per fare sentire anche un altro nella commissione, la canzone per intera, perché dicevo si sente sui sciaggi, che è il tesoro, ma non ho detto, mi fa ancora una base. E comunque, signori e signore, per me è stata una cosa straordinaria, dare in onda, se voi vedete questo video è perché già nel 9-11-20 gennaio sulla vita in diretta, per fare proprio, insomma, ci posso stare. Ciao e a voi, benvenuti a te.